Ciao a tutti, sono Viviana Nebuloni, ho frequentato la civica scuola di musica Claudio Abbado, sono un soprano e sto finendo i miei studi in giurisprudenza. Attualmente quindi cercherò di capire cosa mi attende là fuori, nel frattempo continuerò a studiare con i maestri che ho conosciuto in scuola, scuola che per me ha rappresentato veramente un punto di inizio più che un punto di fine degli studi musicali. Quindi frequentate la scuola civica e sentitevi liberi di essere ciò che siete.